non siamo tutti il nuovo sindaco di santo egidio alla vibrata insomma dati ormai chiari consolidati insomma un successo figlio insomma anche di un nuovo progetto e percorso politico sicuramente come potete vedere spero che voi facciate un video di questa splendida piazza che si è riempita di santo egidesi che non volevano l'ora di dare il loro consenso a questa grande squadra che mi trovero di avere un grande gruppo di amici tanti comuni cittadini tanti gruppi politici e comunque tanta fiducia in noi per quello che potremo fare nei prossimi cinque anni ma soprattutto la voglia di riportare al centro di questo progetto i cittadini la comunità e quindi non può che andare a loro un grazie importante un grazie vero di cuore come ho sempre detto noi abbiamo fatto tutto con il cuore e sono sicuro che con il cuore con tanta voglia di fare il bene di tutti faremo grandi cose per questa comunità ma la cosa a cui tengo a dire come ho detto sempre nei miei comizi grazie a tutti sant'egidio noi ti amiamo dal profondo del cuore e faremo quello che qualsiasi persona potrebbe fare al suo amore il meglio grazie ancora a tutti voi non era un percorso semplice scontato considerando anche che insomma c'erano sì liste civiche ma due liste di centrodestra in questo percorso c'erano tre liste in competizione tutte veramente forti e la cosa più importante con tanti giovani mai come in questa occasione su 36 candidati 20 erano under 30 e quindi non posso che dire grazie a tutti perché hanno reso viva e vera questa lunga chermesse elettorale è stata una grande cavalcata se ci avete accompagnato in tanti tutte le sere